Simulator Giant Track, presentazione di un nuovo giocattolo. Il nuovo giocattolo è il simulatore di moto. È tanti anni che ci sta lavorando e ci sta provando, diciamo di essere arrivati a un buon risultato. Abbiamo l'accelerazione, la frenata, destra e sinistra, cioè tutte le inclinazioni. Adesso vi faccio vedere un giro, un giro neanche, e vediamo un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.